Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, verso la fine del libro Racconti del pellegrino russo, si legge Per essere graditi a Dio non occorre che far altro che amare. Il Beato Agostino dice, ama e fa quello che vuoi. Infatti chi ama veramente non può e non vuol far niente disgradito al suo amato, Ma poiché la preghiera è appunto effusione e atto d'amore, si può allora dire a ragione di essa la stessa cosa, cioè che per la salvezza non occorre far altro che pregare continuamente. L'autore di queste pagine illustra il suo pensiero ricorrendo a sei affermazioni molto profonde che cercheremo di meditare. La prima affermazione è questa. Prega e pensa quello che vuoi. Il tuo pensiero sarà purificato dalla preghiera e questa illuminerà la mente, placando e scacciando tutti i pensieri importuni. Così afferma San Gregorio il Sinaita che consiglia, se vuoi scacciare i pensieri e purificare la mente, scacciali con la preghiera, poiché null'altro ha potere sui pensieri umani. Di questo parla anche San Giovanni Climaco, vinci i nemici della mente con la preghiera di Gesù, non c'è altra arma contro di loro. Dunque, con la preghiera purifichiamo la nostra mente che sarà indirizzata a Dio e si riempirà di santi pensieri. La seconda affermazione è la seguente. Prega e fa quello che vuoi. In questo modo le tue azioni saranno gradite a Dio e per te utili e salvifiche. La preghiera frequente, di qualunque tipo sia, non resterà senza frutti, perché in essa è il potere della grazia. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. L'autore fa poi alcuni esempi di peccatori che pregando hanno ritrovato la via della salvezza. La preghiera incessante attirerà in noi la grazia onnipotente di Dio che susciterà in noi il volere e l'operare secondo i benevoli disegni della sapienza divina. La terza affermazione è molto consolante. Prega e non logorarti nel tentativo di sconfiggere le passioni con le tue sole forze. Sarà la preghiera sconfiggerle in te. Lo Spirito di Dio che abita in voi è più potente di colui che sta nel mondo, dice la Sacra Scrittura. E San Giovanni di Carpazio insegna non rattristarti se manchi del dono della temperanza, sappi invece che Dio ti chiede diligenza nella preghiera e che la preghiera ti salverà. Un esempio c'è dato da un monaco il quale vinse dopo essere caduto in quanto non si avvilì per il suo peccato ma ricorse alla preghiera e si ravvide. Dunque, se vogliamo correggerci, se vogliamo sradicare i nostri vizi, dobbiamo innanzitutto pregare. Con la grazia della preghiera riusciremo in questo lavoro di bonifica della nostra anima. La quarta affermazione è altrettanto consolante. Prega e non temere nulla. Né le disgrazie, né i rovesci della fortuna, la preghiera ti difenderà e li allontanerà da te. Ricordati di Pietro che rischiò di annegare per la sua mancanza di fede, di Paolo che pregava in prigione, del monaco che si salvò dalla tentazione grazie alla preghiera, della fanciulla scampata all'aggressione di un soldato e di altri casi simili. Tutto questo conferma la forza, il potere e l'universalità della preghiera nel nome di Gesù Cristo. L'orante si sente nelle mani di Dio e fa sue le parole di San Paolo. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. La quinta affermazione è la seguente. Prega come preferisci, ma prega sempre. Non turbarti per nessun motivo, ma si gioioso nello spirito e sereno. La preghiera risolverà ogni cosa e ti istruirà. Ricorda quello che della forza della preghiera parlano i santi Giovanni Crisostomo e Macario il Grande. Il primo afferma, la preghiera purifica sempre, anche se elevata da uomini peccatori come noi. E il secondo dice questo. Pregare in qualsiasi modo è nelle nostre facoltà. Pregare con purezza è un dono della grazia. Offri dunque a Dio quel che è nelle tue possibilità. Inizialmente porta almeno in sacrificio a Dio la quantità della preghiera. Questo lo puoi fare. E la forza divina discenderà allora a sostegno della tua debolezza. La preghiera arida e distratta, massidua e incessante, diventando abitudine e trasformandosi poi in una cosa per te naturale, diverrà pura, luminosa, infiammata e degna. Preghiamo dunque sempre e trasformiamo il nostro tempo in preghiera. La sesta e ultima affermazione è molto pratica. Osserva infine che se tutto il tempo in cui sei desto fosse accompagnato dalla preghiera, non ne rimarrebbe non soltanto per compiere azioni peccaminose, ma neppure per concepirle. Vedi dunque quanti profondi pensieri nel saggio insegnamento che dice ama e fa quello che vuoi, prega e fa quello che vuoi. Com'è gioioso e confortante tutto questo per il peccatore, sopraffatto dalle debolezze o per chi è schiacciato dal fardello delle sue passioni incontrollabili. La preghiera, ecco il mezzo universale, l'unico che ci è stato dato per perfezionare l'anima e raggiungere la salvezza. È proprio così. Ricordiamo però che alla preghiera è strettamente collegata una condizione. Pregate senza interruzione. Così ammonisce la parola di Dio. Di conseguenza la preghiera manifesta la sua forza e i suoi frutti quando è elevata con frequenza, incessantemente, poiché l'assiduità della preghiera dipende soltanto dalla nostra volontà, mentre la purezza, il fervore e la perfezione della preghiera sono doni della grazia. Impegniamoci dunque a pregare quanto più spesso possibile. Dedicheremo l'intera nostra vita alla preghiera, anche se inizialmente sarà poco attenta. L'assiduo esercizio della preghiera insegnerà l'attenzione e la quantità condurrà sicuramente alla qualità. Per imparare a far bene una cosa occorre farla il più spesso possibile, ha detto un esperto scrittore spirituale. Ebbene, cari fratelli e sorelle, così termina questa lunga citazione dei racconti del pellegrino russo e così terminiamo la meditazione odierna. Impegniamoci anche noi a fare della preghiera il respiro della nostra anima. In questo modo anche noi saremo santificati. Siano lodati Gesù e Maria. e Maria. Siano Siano